Fino al 30 marzo la sala delle colonne del complesso dell'Annunziata ospita la mostra allenamente, un luogo aperto gratuitamente a gruppi, scuole e famiglie dove è possibile allenare le abilità del cervello attraverso giochi che stimolano la memoria, la logica, l'osservazione e l'attenzione. L'iniziativa che rientra nel progetto Una città per giocare dell'assessorato al welfare è gratuita ed accessibile da lunedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 prenotando sul sito www.unacittapergiocare.it. Con questa mostra noi vogliamo dimostrare che così come si può allenare il corpo e quindi le parti diverse del corpo ed essere più forti per essere anche più allenati ad affrontare la vita si può allenare anche la mente. I bambini vengono qui in gruppi che provengono dalle scuole, dai nostri centri socioeducativi e si allenano, si allenano giocando e scoprendo che le nostre capacità anche mentali come la logica, come la memoria, come l'osservazione possono essere rafforzate attraverso le attività di gioco. L'abbiamo inserita in una più ampia programmazione delle attività per i bambini e per i ragazzi della nostra città e si è realizzata in due luoghi che per noi sono particolarmente simbolici. Quindi il mese scorso l'abbiamo realizzata a San Domenico nel complesso di San Domenico Maggiore e invece fino alla fine del mese sarà qui all'Annunziata, un luogo che è molto simbolico per la nostra città perché è il luogo dove venivano accolti i bambini, dove c'è la ruota e quindi ha anche una storia molto importante per i nostri bambini.